Franco Chirico per il momento resta presidente del Consorzio Enriguo di Vallo della Lucania. Il Tribunale infatti ha ritenuto inammissibile il ricorso presentato dal candidato presidente della lista avversaria, l'ingegnere Parrilli, non ammesso all'ultima tornata elettorale per definire il vertice dell'ente. La questione era stata sollevata dopo che alle elezioni era stata esclusa la lista di Parrilli, portando così alla corsa in solitaria di Chirico per la riconferma alla guida del Consorzio. Una decisione che era arrivata, secondo gli oppositori, dello storico presidente dopo che lo statuto era stato modificato a poco tempo dalle elezioni con un regolamento che dettava nuovi criteri stringenti e precisi per candidarsi a presidente. Criteri, secondo gli oppositori, cuciti proprio addosso a Chirico e ostativi per chiunque altro volesse candidarsi. Di qui il ricorso presentato da Parrilli per ottenere la sospensione delle elezioni e la richiesta della nomina di un commissario giudiziario dell'ente. Richieste rigettate ora dal Tribunale Vallese con la motivazione che tutto andava impugnato nel termine di 30 giorni. Esulta il legale di Franco Chirico dei Politis. Il mio cliente potrà in tutta tranquillità ora gestire, come sempre ha fatto l'ente, con capacità e con onestà, legittimato dall'ampio mandato rilasciato dall'Assemblea dei Socii e sicuramente non ha servito ad un locale potere economico che ha fatto più guai di qualsiasi orda di barbari. Sta invece già preparando il reclamo illegale dell'ingegnere Parrilli, l'avvocato Cannavacciuolo. Le motivazioni adottate dal giudice addetto sono assurde. Si prende come punto di riferimento la normativa sui condomini e non quella sulle associazioni, quando il consorzio è proprio un'associazione privata. Così si falsano i termini per l'impugnazione. Nel merito inoltre la questione è stata esaminata solo di striscio. A giorni depositeremo il ricorso in tribunale.